Sono Enrico Derflinger, cucinato per la regina Elisabetta e questo era il suo risotto preferito. Faccio sudare la cipolla nell'olio, tosto il riso e quando è caldo aggiungo le bollicine. Lascio sfumare. A metà cottura aggiungo i gamberi sgusciati. Il risotto è cotto, non mi resta che mantecare con burro, parmigiano reggiano, timo, maggiorana, olio e bollicine. Ecco il risotto più amato dalla regina Elisabetta. Buonissimo!